Primo incontro con i giornalisti a Trapani per il colonnello Mauro Carrozzo, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Alla guida dell'arma ha preso il posto di Fabio Bottino, trasferito a Roma dove andrà ad insegnare tecniche investigative alla scuola per ufficiali. Diverse le presenze già in Sicilia per il neocomandante provinciale a Palermo, Agrigento, Morreale e Caltanissetta. Carrozzo, prima di arrivare a Trapani, ha ricoperto a Trieste lo stesso incarico di comandante provinciale dei Carabinieri. Che ovviamente l'arma dei Carabinieri su Trapani non può prescindere da un contrasto alla criminalità organizzata, che a Trapani così come a Palermo, ad Agrigento, a Caltanissetta, soprattutto nella parte occidentale della Sicilia si chiama solo ed in un unico modo, cosa nostra. Noi impiegheremo le nostre risorse qualitativamente migliori per il contrasto a Cosa Nostra e su questo non c'è alcun dubbio. Però l'arma territoriale è un'arma che a me piace definire totale. Noi siamo una forza di polizia a competenza generale e quindi ci dobbiamo occupare di tutto ciò che serve per la sicurezza del cittadino. A partire dalla prossimità che continueremo a garantire con le nostre 31 stazioni sul territorio, alla prevenzione generale, al pronto intervento e laddove la maglia della prevenzione non dovesse essere sufficiente per risolvere queste criticità ovviamente interverremo anche in coordinamento con l'autorità giudiziaria per la repressione dei reati. Questo lavoro noi lo faremo ovviamente in coordinamento con tutte le altre forze di polizia. Per noi è fondamentale il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal signor Prefetto di Trapani. Su quel tavolo noi decideremo quali saranno le linee di azione strategiche per contrastare le criticità e i problemi di criminalità sul territorio. Ma ripeto, non esiste solo la criminalità organizzata che rimane obiettivo prioritario il contrasto alla criminalità organizzata, ma esistono tante altre situazioni che lo Stato attraverso noi deve affrontare e deve andare a risolvere. Quello che è importante capire è che l'arma dei carabinieri, essendo diffusa su tutto il territorio, è a disposizione del cittadino. Prima me ne sono uscito con una battuta, noi non siamo un esercizio di potere, siamo un esercizio di un servizio che dobbiamo dare al cittadino. Grazie.